Umberto Ambrosoli, come valuta innanzitutto l'endorsement di Adriano Celentano pro Beppe Sala? Mi sembra perfettamente coerente con la storia di Adriano Celentano e francamente me lo aspettavo. Me lo aspettavo in modo particolare per ragioni diverse da quelle che ha sintetizzato oggi Celentano dalle colonne del fatto. Io me lo aspettavo per lo sviluppo urbanistico della città, perché Beppe Sala con la prospettiva della riapertura dei navigli da sottoporre il referendum cittadino quando ci saranno i conti, i progetti perfetti, ha un'idea di sviluppo della città che non è in verticale. E siccome condividendolo o meno ricordo come Celentano alcuni anni fa avesse detto basta con la città che cresce verso l'alto, riprendiamoci la nostra dimensione tra virgolette orizzontale, beh è esattamente quello che fa la riapertura dei navigli. Si cresce, si sviluppa Milano che da sempre si è sviluppata sull'acqua senza l'ansia di crescere in altezza, ma occupando nella maniera migliore il territorio che è già urbanizzato. L'avvento di personaggi come Gerardo Colombo, come Emma Bonino, secondo lei ha creato, o meglio ancora ha allargato, l'empatia di Beppe Sala su quello che in modo un po' brutale chiamiamo il mercato elettorale? Alcuni mesi fa Beppe Sala ha detto che un buon manager deve sapersi circondare di persone autorevoli, autonome e indipendenti. È esattamente quello che sta facendo in questo momento. Sfido chiunque a trovare piena sintonia fra alcune delle posizioni che lo sostengono e Beppe Sala. Piena nel senso su tutti i punti. Ma lui non vuole intorno a sé degli yes men, vuole delle persone che diano il loro contributo sulla base della loro esperienza, della loro preparazione, della loro idea di Milano, che è complementare alla sua, che ha dei network con la sua, ma che per potersi realizzare nella maniera migliore deve nascere dal confronto di tutte le esperienze. Un'ultima domanda, gliela faccio invece relativa al programma, in modo particolare alla proposta che è stata fatta oggi, il referendum di scopo. Come lo valuta? A chi vuole parlare? I referendum hanno senso nel momento in cui la cittadinanza è nelle condizioni di poter decidere. Quando Beppe Sala dice sottoporremo al referendum la scelta di riaprire i navigli, non sta parlando di qualcosa di ideale, sta parlando di qualcosa di concreto. Ideale l'abbiamo già fatto il referendum per i navigli. Il problema è che poi bisogna vedere quanto costa, che genere di servizi può portare a tante persone che magari sull'onda dell'entusiasmo dicono sì e che poi sarebbero pronti a protestare se gli metti il cantiere sotto casa. Ecco, coinvolgere tutti con una corretta informazione, completa informazione, serve per creare, anche serve, per creare una maggiore adesione ai progetti che poi devono essere sviluppati. Il referendum è il momento di assunzione di responsabilità. Ed è molto bello, dopo aver parlato per tanti anni di partecipazione, oggi incontrarsi su idee concrete da vivere nella forma della partecipazione. Quanto al tema della stagione referendaria, a me sembra semplicemente una cosa di buon senso, costerà qualcosa fare il referendum sui navigli, costerà aprire i seggi, pagare gli scrutatori, tutte queste cose. È ovvio che se in quella circostanza si porta al voto su più scelte, allora anche la democrazia cosiddetta partecipativa ha un costo più facilmente assorbibile.